In Italia si ammalano di allergie circa 10 milioni di persone all'anno. Quasi il 50% di questi, riferiscono gli esperti nel corso della giornata nazionale sulle allergie, celebrata anche a Bari, presenta sintomi allergici o riferisce di aver avuto almeno una volta nella vita un disturbo del genere. Adesso però a preoccupare sono gli anziani. Per questo nel Policlinico di Bari, nell'unità operativa complessa di geriatria e centro per le malattie rare diretto dalla professor Carlo Sabba, è nata da poco l'unità semplice, una delle poche in Italia ad occuparsi delle allergie degli anziani. Gli anziani non hanno una down regulation del sistema immune ma un up regulation, quindi uno stato infiammatorio che produce sia malattie allergiche che venivano misconosciute fino a poco tempo fa, che anche altre malattie tipo malattie autoimmuni, tumori, altre malattie che dipendono tutte quante da una up regulation del sistema immunologico. In appena due mesi di attività abbiamo avuto 160 accessi e tutti quanti i pazienti che sono venuti presso di noi avevano proprio problemi di tipo allergico e quindi abbiamo potuto fare diagnosi facendo i test appositi di dermatite allergica da contatto, riniti allergica, allergia alimentare e altre patologie allergiche.